La nostra città non è più sicura, la nostra città è piena di handicapati che pur essendo colpi speciali che ne fregano della vera sicurezza. Loro vogliono solo mantenere i propri privilegi, la peggiole senza far nulla, i pastecchi senza sottile e poi non ne ho mai visto uno fare la fila. Questi handicapati pensano solo ai propri interessi. È ora di cambiare, è ora di portare vagina. E' ora di portare uno normale. Parola di handicappato. Grazie. Grazie.